Io ci crederò se provi a volare ti accorgi che qualche stella sta lì per noi e sfiorandole sei più libero, sei più libero e corri dai tutto per essere fino in fondo quello che vuoi e se ce la fai sei più libero, sei più libero. Rate, piccoli sogni infranti, li vede ne prende uno e lo mangia, in un istante il tempo sembra fermarsi è un piccolo momento d'estasi. Signore, se siete venuti qui per fare i cioccolatini potete anche andarvene qui si fanno piccoli momenti di estasi. Grazie. Grazie, grazie.